Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Eccomi qui con un nuovo video che ci tenevo a fare assolutamente in chiusura del 2017 ma anche in apertura del 2018, dipende quando riuscirò a caricare il video perché è un video riassuntivo delle 10 domande che più frequentemente chi si approccia per la prima volta alle erbe tintorie mi fa. Quindi allora mi sono detta siccome siete sempre di più a scrivermi tanto vale riuscire a metterli tutti assieme e sono dubbi diciamo che in tanti vi siete posti quando vi siete approcciati per la prima volta appunto alle erbe tintorie e che io ho già specificato nella grande varietà di video che ho caricati qui sul canale però è ovvio che magari ci sono dei dettagli che possono sfuggire. Quindi per riuscire a rispondere a tutti questi dubbi ho raccolto queste 10 domande che più spesso mi fate e che quindi adesso proverò a rispondervi in modo quanto più veloce senza insomma perderci in tanti particolari. Una delle primissime domande che mi state facendo è che ho usato l'enè castano però i capelli non sono venuti proprio castani come mai soprattutto i capelli bianchi? Ebbene c'è da dire che non esiste un'erba tintoria quindi una pianta che è natura ci mette a disposizione che si chiami enè castano oppure enè mogano oppure enè biondo. In natura non esiste una cosa simile. Sono delle denominazioni commerciali che vengono dati a dei mix di erbe tintorie. Quindi mettendo assieme magari la osonia di go e altre erbe tintorie potremmo ottenere sui capelli un castano. Il problema qual è? Che questi mix già pronti non vanno bene per chi ha una forte e importante ricerca ricrescita bianca. Perché? Perché molto facilmente la percentuale di la osonia presente nel mix di cui noi non abbiamo nessun controllo perché non sappiamo l'esatta percentuale di la osonia presente non riuscirà mai a coprire in modo soddisfacente la nostra ricrescita bianca. Ecco perché io di solito vi consiglio sempre se non avete capelli bianchi da coprire potete usarlo tranquillamente il mix già pronto. Se invece avete dei capelli bianchi da coprire e avete anche delle esigenze particolari in merito al colore da raggiungere tanto vale fare a casa il mix in base alle vostre esigenze personalizzando le percentuali. Vi ricordo che un minimo del 30% di la osonia è assolutamente necessario nel mix per riuscire a coprire i capelli bianchi. Ma di come calcolare le percentuali, di come fare il test di prova per essere sicuri di ottenere appunto a casa il mix che desiderate, il colore che desiderate, ve ne ho già parlato in un altro video, magari vi lascerò l'info ai vari video che menziono in questo video nell'info box del video, quindi assolutamente andateli a controllare se avete la necessità di guardare un video che vi sia sfuggito. Un'altra cosa che vedo anche soprattutto se metto su Google schiarire i capelli in modo naturale, ce ne sono veramente una miriade di articoli in merito che poi alla fine il succo si riduce sempre alla stessa cosa, quindi non vi fate ingannare dai vari titoli a chiappa click perché non esiste una possibilità di schiarire i capelli in modo naturale, soprattutto con le erbe tintorie o comunque con le erbe ayurvediche. Perché? Perché le erbe tintorie, le erbe ayurvediche, le erbe curative non contengono agenti schiarenti, quindi a meno che non siete già bionde e volete intensificare i vostri riflessi biondi utilizzando appunto della case ossidata e acidificata con del succo di limone in un infuso di camomila, allora sì magari potrete notare qualche differenza. Se volete schiarire i vostri capelli dovete in modo obbligatorio ricorrere alle alternative chimiche, quindi acqua ossigenata e insomma le varie altre cose. Quindi assolutamente non pensate che applicando su un castano medio scuro otterrete mai un colore più chiaro, anche se le vostre lunghezze sono tipo castano chiaro perché tinte chimicamente la vostra ricrescita è scura, con le erbe tintorie per forza di cose, se volete uniformare il colore dovete andare a replicare sulle lunghezze il colore che avete sulla ricrescita perché mai almeno che i vostri capelli cresceranno si noterà sempre l'ostaco. Quindi colorando le erbe tintorie tono su tono assolutamente non c'è alcuna possibilità che riusciate a ottenere un colore più chiaro. Io qui sul canale ho fatto già vari video in merito alla preparazione, all'applicazione delle erbe tintorie sui capelli, c'è anche video tutorial dove vi faccio esattamente come lo applico e soprattutto ci sono addirittura due video in cui potete vedere la consistenza della pastella ideale. Ebbene in tante di voi, soprattutto chi appunto usa per la prima volta le erbe tintorie ancora ha difficoltà a capire bene qual è la consistenza ideale diciamo della pastella perché mi scrivete, sai ho notato che dopo mezz'ora che stavo applicando insomma 20 minuti che stavo applicando la miscela in base a quanti capelli si ritrova, piano piano si stecava e non mi trovavo. Allora non è normale questo, vuol dire che avete aggiunto troppa poca acqua. Quello che vi consiglio è, se per caso notate che la vostra pastella man mano che la state applicando sui capelli, nella ciotola oppure comunque sui capelli si steca troppo, assolutamente aggiungete un altro po' di acqua, giusto un poco per raggiungere di nuovo quella consistenza ideale. La pastella dovrebbe assolutamente mantenersi sempre con quella consistenza simile yogurt, quindi che facilita anche l'applicazione. Un'altra cosa che appunto qualcuna di voi mi ha scritto facendo il doppio passaggio e desiderando di ottenere appunto un colore nero sui capelli, nel secondo passaggio è obbligata a utilizzare solo il katam oppure l'indigo puri. Allora cosa succede? Nel momento in cui andate ad utilizzare queste due erbete tintorie, la consistenza della pastella lascia da desiderare, perché? Perché la polvere di queste due piante non risulta in una pastella, in una miscela omogenea, quindi dalla facile applicazione come la cassia oppure la lausonia. Perché? Perché proprio la tipologia di pianta in seguito alla polverizzazione, la miscela che ne risulta poi dopo non è così facile da applicare. Quindi non dipende dalla tipologia, dalla qualità del katam oppure dell'indigo che utilizzate. Potete utilizzare di svariati brand e vedete che il risultato è sempre lo stesso. Cosa fare in questo caso? Io vi consiglio o di aggiungere un 10% di cassia oppure di sider, che sidera ancora meglio perché ha anche le mucilagini che aiuta a prevenire appunto la secchezza e aiuta anche nell'applicazione, oppure è anche, anzi, utilizzare del gel di semi di lino al posto dell'acqua. Se usate un mixintorio in cui ci sia l'indigo oppure il katam, oppure se usate un secondo passaggio in cui usate esclusivamente solo il katam e l'indigo, è assolutamente normale che l'acqua del risciacquo risulti blu. È il surplus del colore che va via per i primi 2-3 shampoo che effettuerete. Ovviamente si rimane un po' interdette perché uno pensa, vabbè, il katam ha i riflessi viola perché l'acqua non è viola, oppure il katam assieme alla lausonia risulta al castano perché l'acqua non è di color marrone. No, il pigmento tintorio dell'indigo e del katam è blu, quindi è assolutamente normale che l'acqua del risciacquo sia blu. Tant'è che io vi consiglio almeno per i primi giorni che avete fatto l'impacco tintorio di usare anche delle federe di cuscini che stiano facilmente lavabili ad alte temperature proprio per facilitare il lavaggio e riuscire a togliere via le macchie. Anche i polpastrelli possono risultare blu una volta che ci siamo asciugati i capelli appena fatta l'applicazione, no? È normale che passando la mano tra i capelli poi i polpastrelli risultino blu. Basta lavarli con acqua calda e sapone e tornano come nuovi. Voglio tenere il castano chiaro. Che faccio? Faccio il doppio passaggio? Ebbene, io vi consiglierei proprio di non fare il doppio passaggio. Perché? Perché ovviamente facendo una prima passata di lausonia, il colore che poi ne otterrete, partendo da una base scura rossa che è quella della lausonia, è ovvio che non sarà più un castano chiaro ma sarà un castano medio medio scuro e così via. Ancora di più, più vorrete smorzare il rosso della lausonia, più verrà scuro il colore perché aumenterete la percentuale di indigo o di katam. Quindi mi raccomando, se desiderate ottenere un castano chiaro, tenete presente che più chiaro è il mix. Quindi più è alta la percentuale di cassia e più è bassa la percentuale di l'indigo, più si vedranno i riflessi rosi. È sempre molto soggettivo, l'abbiamo visto anche sulla pagina Facebook, nell'album dedicato alle foto, alle ne, prima e dopo, ci sono delle ragazze i cui capelli proprio non risaltano i riflessi rosi, nonostante un 30% di lausonia dentro il mix. Quindi è sempre molto soggettivo, però, e quindi mi raccomando, fate sempre il test di prova prima su una ciocca nascosta, però tenete presente che se volete ottenere un colore chiaro, il doppio passaggio è escluso. Una delle domande che più spesso mi fate e che leggo anche sotto i vari post su Facebook è, è vero che i capelli possono diventarmi verdi se utilizzo le ne sopra i miei capelli tinti chimicamente? Ebbene, la risposta sarebbe no, non rischiate che i capelli diventino verdi se utilizzate erbe tintorie pure al 100%, quindi la lince deve riportare la nomenclatura botanica della pianta, che sia lausonia inerimi, scassia obovata e così via, ok? Perché spesso e volentieri in erboristeria trovate anche ene rosso che è addizionato di picramato, proprio per risaltare il rosso della lausonia e anche per accorciare i tempi di posa, però dovete tenere presente che appunto il picramato interagisce con la tinta chimica e possono risultare dei riflessi verdi, quindi se tenete conto di questo piccolo accorgimento non rischiate di ottenere i capelli verdi, però ci sono ovviamente anche delle eccezioni, perché nel caso dei capelli chiari, quindi i capelli chiari decolorati, se abbiamo le lunghezze decolorate è una ricrescita biondo cenere, che vogliamo appunto rinunciare alle tinte chimiche e vogliamo passare ad usare la cassia e il catam per ottenere un biondo cenere. Ebbene, in questo caso correte grossi rischi di ottenere dei riflessi verdi, o anche addirittura capelli verdi, perché è facile che sia la cassia che il catam interagiscano con le lunghezze decolorate e rilascino appunto dei riflessi verdi. Assolutamente fate sempre il test di prova prima, quindi questi mix chiari, anche la ne biondo che trovate i mix pronti, andrebbero utilizzati assolutamente su dei capelli chiari naturali, quindi non capelli decolorati e trattati chimicamente. Ho il colore Pantone 10, mi dici il mix che posso utilizzare per replicare lo stesso identico colore? Allora, premessa, parliamo di erbe tintorie, quindi erbe al 100% naturali che vanno a colorare i nostri capelli tono su tono, non vanno a sostituire il pigmento naturale del capello con un pigmento sintetico, quindi replicare con le erbe tintorie una tinta chimica è assolutamente impossibile. Ok? Quindi, mi raccomando, quando vi approcciate alle erbe tintorie, quindi quando fate una scelta a salutare per la salute dei vostri capelli, tenete presente questo. Io assolutamente metto sempre le mani avanti e lo dico a chiunque mi contatti e ha delle aspettative altissime e si aspetta di andare incontro ad un'esperienza molto simile a quella delle tinte chimiche. Le erbe tintorie sono assolutamente un mondo ben diverso, quindi se parti da un colore castano scuro, hai le lunghezze rosse, rosso veneziano, è impossibile replicarlo con le erbe tintorie perché qui, dov'è la ricrescita scura? Non riuscirai mai ad ottenere quel rosso chiaro, quindi molto intenso. Oterrai sì, potrai avere dei riflessi, potrai certificare il colore nel tempo e far sì che si veda molto il rosso, ma non arriverai mai ad un rosso chiaro, quindi come il colore che otterresti con appunto una tinta chimica. C'è tanta confusione per quanto riguarda il rabarbaro o la curcuma, che sono delle erbe tintorie riflessanti bionde. Ebbene, si tende a credere che appunto, essendo delle erbe riflessanti che sui capelli biondi danno dei riflessi dorati oppure ramati, si riescano ad utilizzare in dei mix tintori anche più scuri, quindi per un castano medio scuro, per ottenere dei riflessi dorati sui propri capelli. È sbagliato questo perché, come anticipavo, le erbe tintorie non riescono a togliere melanina dai nostri capelli, quindi colorano tono su tono, non sostituiscono i nostri pigmenti naturali. Quindi se partiamo da una base scura, al massimo riusciamo ad ottenere un castano più caldo, riusciamo ad ottenere un castano più ramato, ma assolutamente non vedrete i riflessi dorati. Ci tengo a dirlo perché poi dopo magari ci rimanete male perché ci provate e non vedete questo riflesso dorato. Quindi il rabarbaro e la curcuma danno questi riflessi dorati sui capelli chiari, quindi che sono, non so, un castano chiaro, un biondo, un biondo cenere, un biondo dorato, ma assolutamente non vedrete questi riflessi dorati su una base naturalmente scura. Un'ultima cosa che ci tengo a precisare prima di chiudere questo video riguarda gli impacchi con le erbe curative. C'è chi mi scrive, guarda ho fatto per la prima volta l'impacco con la cassia, ma non è che ho notato grandi differenze. Ebbene, dovete sapere che, come in tutte le cose, solo la costanza ripaga, quindi se vogliamo vedere dei risultati, dobbiamo assolutamente essere costanti. Dopo un'unica applicazione non è che potremmo ritrovarci con la chioma da leone, è vero che potrebbe anche succedere perché è tutto molto soggettivo e ogni cappello è a sé, però dovete anche capire che è come, non so, applicare per la prima volta una crema sul viso e vedere che siamo ringiovaniti di 10 anni. Non esistono i miracoli in natura e quindi non ce le dobbiamo aspettare neanche dagli impacchi curativi. Fate gli impacchi almeno una volta a settimana e vedrete nel tempo che assolutamente la chioma migliorerà tantissimo, ma anche il cuoio cappelluto. Un'ultimissima cosa che riguarda chi utilizza l'erbe tintore per la prima volta per coprire i capelli bianchi. Ci sono tante persone che magari non hanno mai usato neanche le tinte chimiche, ci sono persone che vengono da anni, anni, le tinte chimiche che si fanno dal parrucchiere. Iniziare ad utilizzare l'erbe tintore a casa risulta un po' laborioso, per quanto ci possono essere i tutorial, appunto, in cui vi faccio vedere come si applicano e così via, mi scrivete che dopo la prima applicazione i capelli bianchi non sono coperti in modo uniforme e vi chiedete come mai. Bene, allora, c'è una riflessione da fare. Se i capelli bianchi vengono coperti qui e qui non vengono coperti, l'unica risposta è che il pigmento è dappertutto, quindi la miscela se è ben distribuita dappertutto dovrebbe coprire dappertutto. Quindi la conclusione è che è normale che le prime volte, finché non, prendete un po' di dimestichezza con appunto distribuire in modo uniforme la miscela sui vostri capelli, è normale che magari ci sia qualche fail, quindi che ci sia qualche zona dove i vostri capelli non sono ben coperti, ben coperti dalla tinta, quindi assolutamente dopo vi trovate che sono magari giallini e così via. Comunque sul blog ci sono veramente tantissimi articoli in merito alla copertura dei capelli bianchi, cosa magari sbagliate se poi vi trovate con i capelli che appunto non sono ben colorati o ben coperti. Erano queste in grande le domande che mi ero segnata perché sono quelle che spesso mi fate, quindi ci tenevo assolutamente a venire incontro a chi di voi perché ne siete sempre di più e che sono un po' che rallegrani perché noto una sempre maggiore consapevolezza su quello che usiamo sulla nostra cute, sui nostri capelli, sulla nostra pelle. Purtroppo chi si rivolge alle erbe tintorie arriva di solito, come è successo anche a me anni fa, in una situazione disperata perché vede la chioma disidratata, sfibrata, spenta, il tuo capelluto è che è prude e fa male, quindi capisco assolutamente la vostra disperazione e ricerca di una alternativa a salutare proprio per i vostri capelli, la vostra cute, ma anche per il vostro benessere. Niente, se vi viene qualche altro dubbio, avete qualche altra domanda, lasciatemi un commento qui sotto al video e sarò ben felice di rispondervi, mi dispiace adesso non mi viene quest'ultima cosa che ho visto che spesso mi chiedete, se mi viene in mente lascerò io stessa un commento qui sotto così lo potete leggere tutti quanti. se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, condividete il video con le vostre amiche oppure con i vostri familiari che magari avrebbero interesse ad approcciarsi alle erbe tintorie, sono sicura che troveranno degli spunti e delle informazioni utili in questo video. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial e buon 2018! A presto! Grazie a tutti.